Ben trovati a questo nuovo appuntamento con il TG6 in apertura la cronaca perché torniamo a parlare dell'omicidio di Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore trovato senza vita giovedì all'interno del canale Fosso Vallelunga Pescara dopo essere scomparso lunedì sera. C'è stata l'autopsia questa mattina all'ospedale di Pescara con gli investigatori che in queste ore cercano ogni indizio e ogni traccia per cercare di risalire a chi abbia ucciso il ragazzo di Spoltore. Allora andiamo a vedere insieme il servizio. E' terminata nel pomeriggio l'autopsia sul corpo di Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore trovato giovedì pomeriggio senza vita lungo Fosso Vallelunga Pescara. L'esame autoptico alla presenza di un esperto di balistica del RIS dei Carabinieri è stato condotto dall'anatomo patologo Cristian Dovidio incaricato dalla procura di Pescara. Gli inquirenti cercano risposte e tanti quesiti che lascia sul campo questo omicidio apparentemente senza un movente, a partire dalle modalità di esplosione del colpo al petto che ha ucciso Alessandro, che farebbero pensare ad una esecuzione malavitosa per arrivare all'ora della morte che dovrebbe essere avvenuta 48 ore prima del ritrovamento del cadavere. Su quest'ultimo punto un'indicazione di massima sarebbe già arrivata dal cellulare del ragazzo, il cui segnale è stato utile per ritrovare il corpo senza vita in una zona di campagna a sud della città, non lontano dal cimitero di San Silvestro. Zona poco nota e più, il che farebbe pensare ad un omicidio compiuto da persone del posto. I tabulati telefonici nelle mani dei carabinieri e della procura adriatica potrebbero rivelare le ultime persone con cui Alessandro è entrato in contatto. Telefono che è stato acceso fino a lunedì sera e che ha agganciato in ultimo proprio una cella della zona in cui è stato ritrovato il cadavere. Ieri i carabinieri assieme alle unità cinofile hanno anche eseguito una perquisizione all'interno dell'abitazione dei neri acquisendo vario materiale tra cui vecchi telefoni. Gli inquirenti hanno anche ascoltato più volte i familiari del ragazzo e gli amici che potrebbero fornire indicazioni utili alle indagini. Nelle prossime ore a Pescara dovrebbero arrivare i RIS per effettuare gli accertamenti sulla macchina del 29enne di Spoltore, trovata mercoledì mattina nel centro di Pescara davanti la pizzeria Maruzzella, all'angolo tra Viale Regina Elena e Via Mazzini. Al momento non è chiaro quando e chi l'abbia parcheggiata lì perché il pizzaiolo del Maruzzella ha detto più volte che quella macchina, una 500 rossa con il tettino beige, martedì non c'era e nel parcheggio in cui è stata poi ritrovata è apparsa solo il mercoledì. Quindi tutte le ipotesi di movente del delitto al momento restano al vaglio degli investigatori, da possibili problemi all'interno della famiglia sino al traffico di stupefacenti. Intanto questo pomeriggio allo stadio adriatico Cornacchia, dove si disputava la partita tra Pescara e Parma, è apparso uno striscione nella curva Nord con scritto Nerino nel cuore, la Nord ti rende onore. Proprio in ricordo di Alessandro Neri, che era un grande tifoso biancazzurro e faceva parte del tifo organizzato dei Pescara Rangers. Tifosi che sin dal martedì in cui è stata annunciata la scomparsa, ma soprattutto dopo il ritrovamento del corpo di Alessandro, frequentano assiduamente la villetta di Spoltore, dove viveva il ragazzo con la madre. Ed ora la politica. Mentre si prepara l'ingresso di Gaetano Quagliarello in Forza Italia, il Partito Azzurro e la coalizione di centrodestra si preparano alle prossime elezioni regionali, che molto probabilmente ci saranno in autunno. Forza Italia lancia l'opzione sulla scelta del candidato governatore. Vediamo insieme il servizio. Io spero che si possa avviare un processo di federazione del centrodestra. È chiaro che è nato un nuovo mondo ed è chiaro che il centrodestra deve cambiare. Io mi auguro che questo cambiamento possa essere spinto anche da un partito come Forza Italia, che è certamente custode di principi cristiani, liberali, conservatori, che sono i miei principi. Però è evidente che io devo innanzitutto far riferimento al mio movimento. Le cautele del politico esperto impongono un linguaggio il quanto più possibile poco esplicito, ma leggendo tra le righe delle dichiarazioni del neosenatore Gaetano Quagliarello, leader di idea ed eletto con Noi con l'Italia, c'è la volontà di confluire in Forza Italia decisione che potrebbe arrivare nel giro di qualche giorno. Lo testimonia la presenza questa mattina a Pescara, alla conferenza stampa organizzata dal coordinatore regionale neosenatore Nazario Pagano, per commentare l'esito del voto politico e soprattutto il risultato di Forza Italia. Partito Azzurro che in Abruzzo è il secondo, dietro il Movimento 5 Stelle, che però è a distanza siderale dagli altri. Ci sono infatti almeno 25 punti di differenza. Nel complesso il risultato della coalizione di centrodestra è stato buono, meglio nell'interno dell'Abruzzo, nell'Aquilano e nel Terramano, che sulla costa. Infatti gli unici due collegi uninominali strappati alla marea 5 Stelle sono uno per la Camera e l'altro per il Senato, all'ombra del Gran Sasso. Ora si apre la partita delle regionali, visto che il presidente D'Alfonso ha scelto Palazzo Madama. Nelle elezioni d'autunno Forza Italia e il centrodestra sono convinti di poter fare la parte del leone. Gli azzurri rivendicano a questo proposito una golden share per la scelta del candidato governatore. Non ci saranno primarie, dice Pagano, ma la condivisione con gli alleati, quella sì. Non è mancata poi una stoccata al presidente della regione D'Alfonso sulle sue mancate di missioni mediali. Diciamo che il centrodestra unito ha ottenuto un brillante risultato, anzi non brillante, eccellente, perché noi rispetto al 2013 cresciamo di 6-7 punti percentuali alla Camera e anche di più al Senato, a dimostrazione del fatto che il centrodestra è in perfetta salute, c'è una Lega molto forte, e noi restiamo il primo partito della coalizione, ovviamente insieme agli alleati cercheremo di scegliere il miglior candidato possibile per una vittoria. Io ritengo che il centrodestra sia favorito, anche tenuto conto del radicamento dei nostri candidati sul territorio, che è un fattore che ci avvantaggia in un sistema elettorale con le preferenze. Andiamo avanti e proseguiamo con i temi legati all'ambiente. Il comitato che si batte contro la realizzazione del gasdotto e della centrale di compressione del gas in Valle Pellinia ha organizzato per il prossimo 21 di aprile a Sulmona una manifestazione per dire e continuare a dire no al progetto che intanto è stato approvato in via definitiva dal Mise, contro cui si batte anche la regione Abruzzo che proprio nei giorni scorsi ha presentato i ricorsi al Tar. Sentiamo insieme il servizio. Il coordinamento Noab del gas Abruzzo raccoglie la sfida lanciata dal governo che ha approvato in via definitiva il progetto della centrale SNAM di compressione di case pente a Sulmona e rilancia con una mobilitazione in programma sempre a Sulmona il prossimo 21 aprile. Questa mattina davanti alla sede della prefettura di Pescara, scelta come luogo, simbolo del governo sul territorio, il coordinamento che riunisce comitati, movimenti e cittadini ha ribadito il proprio no al gasdotto Sulmona Foligno ma soprattutto al progetto complessivo di far diventare l'Abruzzo un distretto minerario. Noi invitiamo tutti a mobilitarsi non solo per la centrale Sulmona ma per quest'idea di trasformare l'Abruzzo in un distretto minerario, in un hub del gas a favore dei profitti delle aziende senza interessi per gli abruzzesi perché queste opere vengono fatte solo per esportare il gas in nord Europa e fare profitto a queste aziende quindi a loro i profitti hanno i rischi. Il decreto era un provvedimento atteso contro il quale la regione Abruzzo ha già detto di voler fare opposizione presso il Tar del Lazio, ricorso che segue quello avverso la delibera del 22 dicembre scorso della presidenza del Consiglio dei Ministri. I comitati civici sottolineano come non ci possa essere alcuna ragione di Stato che soverchi la sicurezza delle popolazioni che poi dovranno fare i conti con l'opera. Gasdotto dicono che attraversa l'Appennino uno dei territori con la più alta attività sismica d'Italia. Questo è anche un'ulteriore dimostrazione della volontà di rimanere in un tracciato, in un percorso nonostante le criticità che è presente, nonostante tutto quello che è accaduto sia nel 2009 ma nel 2016 nella zona dell'Umbria e delle Marche che sono comunque interessate da questo percorso e quindi di voler continuare in questo progetto infischiandosene di tutto, anche di questi elevatissimi rischi sia di carattere sismico, sia di carattere sanitario che di carattere ambientale. Adesso invece ci spostiamo a Lanciano dove si accende il dibattito sull'ipotesi avanzata dal sindaco Mario Pupillo di spostare il monumento ai caduti da Piazza Plebiscito a Viale delle Rimembranze. Sentiamo. L'ipotesi non è recente, fu prospettata anche dal pool di architetti capeggiato dal professor Carpenzano della Sapienza di Roma durante la fase progettuale per la riqualificazione di Corso Trento e Trieste. Il monumento ai caduti di Piazza Plebiscito a Lanciano andrebbe spostato altrove. È il sindaco Mario Pupillo a ricordarlo nell'intervista. Nel 1904, nello stesso posto, c'era una fontana a testimoniare l'arrivo in città dell'acquedotto pubblico e magari potrebbe essere di nuovo l'acqua, perché no, a fare da elemento di congiunzione, stavolta tra l'espansione novecentesca della città e il centro storico. Una prima ipotesi di ricollocamento del monumento costruito nel 1926 è in Viale delle Rimembranze. L'equipe del professor Carpenzano, che ha curato la progettazione, faceva notare come il monumento ai caduti poteva essere collocato in una posizione migliore rispetto all'attuale, perché in piazza, per esempio, si sviluppano tante manifestazioni che vanno spesso a coprire o a disturbare quest'area che dovrebbe essere un'area di riflessione, un'area così, di un pensiero ai nostri caduti. E allora, come abbiamo fatto per i martiri lancianesi, noi potremmo collocare il monumento ai caduti. E' il sindaco Mario Cupillo a ricordarlo nell'intervista rilasciata al Tg Max. E' uno spazio che confina quindi con il Viale Rimembranze, che appunto ricorda quell'epoca. E quindi ricucire anche, come effetto collaterale positivo, ricucire il centro storico, con questa gradinata che prenderebbe il posto del monumento, con la città novecentesca, e di lì continuare con il corso che entra dentro l'ippodermo Villa delle Rose, e va verso il polo museale, c'è la Biblioteca Liberatore, il polo museale Santo Spirito, lì c'è anche il Palazzo Torriero che noi vorremmo destinare a uno spazio culturale. E quindi tutto questo riallaccia, ricuce la città e gli dà a questo monumento una posizione strategica e dove effettivamente può mostrare tutta la sua bellezza e quindi richiamare quello che sono stati i nostri martiri. Adesso ci spostiamo all'Aquila, dove con il convegno Andrea Bafile e la Grande Guerra, in programma ieri pomeriggio, sono partite ufficialmente le celebrazioni per il centenario della morte del tenente di Vascello della Regia Marina, morto in combattimento a Cortellazzo di Esolo, in provincia di Venezia. Domani intanto, alle ore 9, ci saranno delle celebrazioni anche a Guardia Grele, dove all'interno del Sacrario che conserva le spoglie di Bafile sarà scoperta una epigrafe. Vediamo insieme il servizio sul convegno di ieri all'Aquila. Germana Dorazio. Giovanni Scime è il presidente del Comitato per il Centenario di Andrea Bafile per le celebrazioni di questo grande uomo. Come si è arrivati alla realizzazione di tutti questi eventi? Grazie all'interessamento del Comitato, ma più ancora grazie all'interessamento di molte persone che sono intorno a Monticchio, è nata dalla volontà di celebrare una persona che sentiamo molto nostra e che rispettiamo moltissimo. Abbiamo avuto donazioni che non aspettavamo nemmeno, che non abbiamo richiesto. Abbiamo avuto alcuni enti, più che enti, alcune associazioni che ci hanno proposto di fare delle cose insieme a noi o di fare delle cose nel nostro cartellone. Non ce lo spieghiamo nemmeno noi, è una cosa che è andata da sola, diciamo. Qual è il valore sociale che ci riporta Andrea Bafile, il suo ricordo? Il valore sociale è quello di un grande personaggio. Il grande personaggio che più che altro era altruista verso i suoi soldati, infatti la sua medaglia d'oro fu conquistata proprio per salvare un suo uomo che era rimasto sperso nel canneto, lui da solo è tornato indietro e poi purtroppo albeggiando è stato scoperto dal nemico ed è stato ferito a morte. Quindi questo valore che lui ha verso gli altri, ma già l'aveva esternato quando alcuni anni prima, essendo il vice comandante di nave quarto che era ormeggiata nel porto di Napoli, con un feroce incendio si fece calare nelle sentine della nave, azionò gli antincendi, in sostanza l'acqua che era predisposta per spegnere l'incendio, riuscendo non solo a domare l'incendio ma a salvare la città di Napoli perché a fianco c'era un'altra nave, il fuoco era dinanzi alla Santa Barbara. Se fosse scoppiata la quarto, per simpatia sarebbero scoppiate tante altre navi e quindi Bafile è un eroe anche in questo senso, un ardito anche in questo senso. Poi Bafile aveva già avuto altri incomi perché venendo dalla scuola tecnica era stato uno scienziato, aveva inventato il primo cannone che con una catena riusciva a portare sopra i proietti e a sparare 60 colpi al minuto. E la Marina Militare di allora, la Regia Marina, gli fece anche questo incomio particolare. Quindi oltre a incomi, medaglia d'argento, medaglia di bronzo, le aveva conquistate tutte ed è stato proprio un grande personaggio abruzzese. Adesso invece parliamo di aree protette perché a Pescara è stato presentato nella sede della Regione Abruzzo il passaporto dei parchi. Vediamo cos'è. Calanchi di Atri, Cascate del Verde, Gole del Sagittario e Lago di Serranella sono le oasi del WWF che inaugurano il Passaporto delle Oasi, una iniziativa tesa a valorizzare nell'insieme le aree protette e l'economia rispettosa dell'ambiente. L'idea del Passaporto delle Oasi è stata lanciata dal WWF e raccolta dall'assessore ai parchi Donato Di Matteo. Questo è proprio uno dei nostri impegni a inizio legislatura, è quella di costruire una rete tra tutte le riserve. Stiamo lavorando in questa direzione, ci sono una serie di passaggi che abbiamo realizzato e che sono veramente parte integrante di questo progetto. L'intento è che il turista visitatore venga invitato ad effettuare in un anno solare la visita delle quattro oasi e dei rispettivi sei territori comunali, fruendo anche delle attività indicate e promosse dal passaporto, cioè bed and breakfast, acquisto di prodotti tipici e pasta all'interno dei ristoranti. Una volta collezionati i timbri delle quattro oasi e di almeno quattro esercizi commerciali convenzionati, tornando in una delle oasi, al visitatore verranno donati dei gadget. È importante fare rete, sottolinea l'assessore Donato Di Matteo, che lancia anche il direttorio dei parchi, che avrà il compito di coordinare le attività di promozione e di gestione delle aree protette abruzzesi. Ed ora apriamo la pagina dello sport, partiamo dalla serie B e dal Pescara. Esordio amaro per il neotecnico del Pescara Massimo Epifani, alla sua prima, tra l'altro in casa, all'Adriatico Cornacchia. Non è arrivata la tanto attesa vittoria, ma una sconfitta contro il Parma del pescarese D'Aversa. Vediamo come è andata nel servizio di Paolo Renzetti. Una Pescara senza anima e senza gioco crolla allo stadio Adriatico sotto i colpi del Parma, che con il minimo sforzo passa in terra d'Abruzzo nettamente, con merito a Quendo, la crisi di una squadra deludente, vittima dei suoi errori e delle sue paure. Esordio peggiore sulla panchina bianca-azzurra per Massimo Epifani, alla prima come tecnico del Pescara e all'esordio assoluto su una panchina di B. Proprio non poteva esserci con la sua squadra letteralmente in balia degli emiliani, ma in partita. E fra tre giorni si tornerà però in campo, sempre all'Adriatico, con il Carpi per una sfida che si può già considerare decisiva. Il neo allenatore bianca-azzurra non stravolge il Delfino, ma cambia a modulo e passa al 4-2-3-1. E anche a Torri in campo, restituendo a Brugman il ruolo naturale di regista. In difesa spazio a Crescenzi e Coda, mentre in mediana con l'Uruguagio c'è Valzania. Sulla tre quarti ritorna Yamga, con Mancuso e Falco a supporto di Pettinari, unica punta di ruolo. Nel Parma d'Aversa conferma il 4-3-3 con in attacco Insigne, Calaiò che lascerà il segno e Baraje. Si comincia nel ricordo di Davide Astori e con un minuto di raccoglimento in memoria del giocatore della Fiorentina, che viene omaggiato dai giocatori delle due squadre, con una maglia con dedica per il 31enne giocatore scomparso domenica scorsa. In Curva Nord i tifosi del Pescara ricordano con uno striscione Alessandro Neri, il 28enne, ucciso quattro giorni fa. Agli ordini del signor Illuzzi di Molfetta si comincia in un pomeriggio tiepido e soleggiato di fronte ad 8.000 spettatori. Al settimo subito un brivido per gli ospiti con un tiro dalla distanza di Gaston Brugman che scheggia la traversa. La risposta degli emiliani è però micidiale, con il gol di Calaiò che all'undicesimo su cross dalla sinistra di Baraje, dopo una rimessa laterale, mette alle spalle di Fiorillo per il vantaggio parmenze. Ile Pescara sembra in bambola e al ventunesimo è Dezzi a rendersi pericoloso sempre dalle parti del portiere Bianca Azzurro, che rischia di capitolare poi al ventiquattresimo quando Lucarelli sugli sviluppi di una punizione calciata da Dezzi colpisce di testa la traversa. Domina in campo la formazione ospite in questi frangenti. Il Pescara appare pasticcione e inconcludente. L'ultima parte del primo tempo vede un Delfino appena un po' più vivace ma mai capace seriamente di impensierire il portiere del Parma Frattali. Nella ripresa si riparte con gli stessi 22 d'inizio partita e con il Parma l'attacco. I biancazzurri continuano a giocare male e a non a tirare verso la porta ospite, così è gioco facile per la squadra del tecnico da Versa mantenere e conservare il vantaggio. Epifani al quarto d'ora manda in campo Bunino per Falco con il tecnico che schiera così la sua squadra con le due punte. Al sedicesimo però il Parma arriva ad un passo dal raddoppio con Insigne che dall'interno dell'area adriatica mette alto. Con il trascorrere dei minuti il canovaccio della partita non cambia di molto anche se al ventiquattresimo mancusa l'occasione per il pari prima del proseguimento dell'azione con il nuentrato Ceravolo che qualche istante dopo va a segnare nella più classica delle azioni di condropiede il gol del 2-0. Il giocatore Parmense appare in netto fuorigioco ma il direttore di gara e il suo assistente convalidano il gol del 2-0. Crolla il mondo addosso ai biancazzurri che poi al ventisettesimo subiscono la terza rete ad opera di Gagliolo che inizia così a far scorrere i titoli di coda della gara con diversi minuti di anticipo. Partita che però ha un sussurto al 34esimo quando dopo una respinta di Frattali su Pettinari e Bunino a realizzare il gol del 3-1 che forse illude il Pescara per qualche attimo prima del gol di Scavone che al 38esimo mette la parola fine alla partita. Match che finisce davvero in malo modo per il Pescara e per Fiorillo e soci fischiati dai tifosi e attesi in campo già martedì nella gara decisiva con il Carpi. Ma siamo entrati con paura, no contratta. Ho già parlato con i ragazzi e ho detto che la responsabilità me la prendo io perché in questo momento si sentivano carichi di responsabilità, magari col cambio di allenatore pensavano magari di dover risolvere tutto loro ma non è così. in questo momento è venuto fuori un aspetto mentale molto importante che bisogna lavorarci sopra poi abbiamo preso, a parte il primo tempo, abbiamo fatto malissimo, non male. Abbiamo preso un gol dove l'avevamo studiata e quindi abbiamo preso un gol che si poteva evitare poi nel secondo tempo siamo rientrati molto meglio, stavamo facendo meglio e abbiamo preso un gol in netto fuori gioco che ci ha ritagliato di nuovo le gambe ed è venuto fuori di nuovo la paura e lì la partita è finita. Mi dispiace di questo, non più che altro per i tifosi, per la gente che è venuta oggi allo stadio però l'aspetto principale in questo momento è quello di ritrovare innanzitutto la serenità mentale per cercare di fare risultato. Credo che se si analizza la partita sia per la mano di gioco che per le situazioni da gol create credo che il risultato sia giusto. Per quanto riguarda il centrocampo, sicuramente avevamo struttura ma avevamo anche qualità perché Dezi e Monari oggi hanno fatto veramente sotto l'aspetto tecnico una grande partita e Calaio lo dimostra il fatto che l'ho fatto giocare dall'inizio perché è un momento che sta bene è un attaccante molto importante sia a livello realizzativo ma anche e soprattutto per quello che fa in fase difensiva e di conseguenza quando tutta la squadra vede il proprio finalizzatore, il proprio centroavanti applicarsi in quella maniera in fase difensiva e di conseguenza trascina tutta la squadra. Dispiacere per il gol subito però credo che la lettura della partita da parte dei ragazzi è stata perfetta non era semplice perché nel momento in cui c'è il cambio dell'allenatore comunque una scossa all'interno dello spagliatoio c'è sempre. Abbiamo cercato di sfruttare le difficoltà di una squadra che magari viene da un periodo che non fa risultato e siamo stati bravi in questo. Ed ora scendiamo di categoria, andiamo in Serie C per parlare del Teramo. Questo pomeriggio si è svolto l'allenamento di rifinitura in vista della gara di domani sera al Bonolis contro il Sant'Arcangelo per quello che sarà uno scontro diretto in chiave salvezza per i biancorossi. Si tratterà di dare continuità alla vittoria inaspettata di Padova anche se nel 2018 il diavolo ha sempre perso tra le mura amiche. E noi a questo proposito per vedere anche le ultimissime in vista della partita andiamo allo stadio Bonolis ed andiamo a vedere insieme la conferenza stampa tradizionale pre-gara del tecnico Palladini. Domani ci aspetto una partita secondo me molto più importante di quella che era di Padova sotto il profilo motivazionale e anche di punti. Padova era importante ma era una partita che si preparava da sola perché giocavi contro la prima e quindi domani è una partita importantissima per noi, dobbiamo avere pazienza e giocarcela con la giusta mentalità perché non dobbiamo avere la frenesia di vincerla cercando di fare errori che ci potrebbero compromettere la partita. La nostra squadra quest'anno, perlomeno da quando ci sto io, ha cercato sempre di fare la partita poi è andata in vantaggio tre volte e è stata recuperata quasi sempre. Fortunatamente sabato questo non è successo, anzi i ragazzi hanno avuto l'atteggiamento giusto e quindi bisogna ripartire da quell'atteggiamento lì. Poi speriamo di fare la partita e di mettere in grossa difficoltà il Sandro Arcangelo. È possibile, è possibile che gli interpreti siano lo stesso, magari ci potrebbe essere qualche variante ma gli interpreti saranno più o meno quelli perché abbiamo trovato secondo me la quadratura e adesso bisogna portare avanti questo, ma al di là del modulo di gioco secondo me quello che è importante è l'atteggiamento e come viene sviluppato il modulo di gioco, quindi per far sentire anche più tranquilli i ragazzi per cercare di regalare il meno possibile come abbiamo regalato nelle partite precedenti. Ma io mi aspetto di rivedere la squadra di sabato, al di là del risultato di rivedere lo stesso atteggiamento, la stessa voglia perché anche poi solo 0-0 abbiamo creato i presupposti per andare in vantaggio perché abbiamo avuto due o tre situazioni per andare in vantaggio, quindi voglio vedere quell'atteggiamento lì consapevoli del fatto che bisogna avere pazienza perché le partite si vincono anche come abbiamo fatto sabato soprattutto a Padova con intelligenza. Di queste ultime nove partite ne avremo cinque in casa e quattro fuori quindi se vogliamo tirarci fuori al più presto da questa situazione di classifica perché la situazione di classifica è ancora deficitaria, bisogna vincere in casa. Domenica di sosta per il campionato di Serie D in concomitanza con il torneo di Viareggio due le partite in programma e sono dei recuperi Castelfidardo-Avezzano e San Marino-Nerostellati gare non disputate per il maltempo delle scorse settimane. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Torno di sosta per il campionato di Serie D ma con tre recuperi che si consumeranno in questo fine settimana per il girone F. Oggi Campobasso-Arecanatese rinviata per la concomitanza con le elezioni facoltà lasciata alle società qualora vogliono esercitare il diritto di voto senza problemi legati a trasferte e quant'altro. Domani Castelfidardo-Avezzano e San Marino-Nerostellati rinviate per maltempo. La sosta è dovuta alla partecipazione della rappresentativa di Serie D al torneo di Viareggio. La selezione guidata da Augusto Gentilini debutterà lunedì contro il Livorno tra i convocati ci sono Riccardo della Quercia, del Pineto, Youssef Baba del Francavilla e Michael Deramo dell'Avezzano. Quest'ultimo dunque non sarà presente al match di domani allo stadio Galileo Mancini. Quello tra Castelfidardo e Avezzano è un vero e proprio scontro diretto in chiave playoff. I marsicani hanno un punto in più e rischiano di essere sorpassati in caso di sconfitta. Il Castelfidardo guida la classifica parziale del girone di ritorno con 20 punti collezionati sui potenziali 24. Il tecnico Giampaolo potrebbe rilanciare dal primo minuto Pollino al posto di Deramo. Recupera peraltro un pezzo da 90, quale Federico Cerone, anche se potrebbe partire inizialmente dalla panchina con bisegna tra i primi 11. All'Olimpico di Serravalle, partita che sembra avere pronostico scontato, quella tra San Marino e Nerostellati, per la squadra di Ricorcia si tratta di onorare l'impegno come sarà da qui alla fine del campionato, visto che solo la matematica separa i pratolani dalla retrocessione. Domenica scorsa i Nerostellati hanno dato filo da torcere alla Vastese e proveranno a farlo anche col San Marino che sarà privo dello squalificato Di Maio, ma che con i tre punti si avvicinerebbe alla zona playoff, scavalcando l'Aquila e distanziando il Francavilla. Dopo le tre partite di questo weekend resterà da recuperare una sola gara, quella tra Fabriano Cerreto e Pineto, data fissata al prossimo 21 marzo. È tutto anche per questa edizione del TG6, io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.